Una progressiva debolezza, atrofia muscolare anche severa che porta progressivamente a paralisi e all'incapacità di svolgere funzioni vitali come respirare e deglutire. Sono queste alcune delle caratteristiche dell'atrofia muscolare spinale o SMA che è stata al centro di un incontro qui a Milano per la presentazione del primo libro bianco su questa patologia. Noi ce l'abbiamo fatta spiegare in dettaglio come si presenta, quali sono i sintomi, quali sono le conseguenze da un vero esperto, dal professore Eugenio Mercuri. Ci spiega esattamente che cos'è l'ASMA, che cos'è l'atrofia muscolare spinale o meglio la famiglia di malattie che fanno capo appunto all'ASMA. L'ASMA sta per Spinal Muscular Atrophy che è l'atrofia muscolare spinale appunto in cui è una malattia in cui alcuni centri spinali nel midollo spinale che si chiamano motoneuroni sono coinvolti e questo loro coinvolgimento che porta ad una degenerazione di queste cellule legate ad una causa genetica. Esistono delle mutazioni del gene che possono essere diverse e proprio perché sono diverse possono dare luogo ad una diversa variabilità, ad una diversa gravità della malattia. Riconosciamo tre forme principali di atrofia muscolare spinale. La forma 1 è la forma più grave, quella che esordisce molto molto precocemente, alcune volte già nelle prime ore di vita e questi bambini normalmente se non trattati raramente sopravvivono oltre i due anni. La forma 2 esordisce un po' più tardivamente dopo i sei anni e questi bambini riescono ad acquisire la capacità di stare seduti che non si acquisisce mai nella forma 1 ma non riescono mai a camminare da soli. La forma 3 esordisce ancora un po' più tardivamente, in genere dopo i 18 mesi, due anni, alcune volte anche più tardivamente e queste persone acquisiscono la capacità di camminare da soli, anche se poi una parte di queste persone la perderà nel corso degli anni. Quindi tre forme tutte con una loro gravità ma che chiaramente l'enfasi soprattutto sulla forma 1 perché è la forma molto più grave con una sopravvivenza molto molto ridotta. E cos'è che distingue queste forme l'una dall'altra? La presenza appunto di una modificazione del gene più diversa oppure di più geni coinvolti? Ecco, cosa c'è alla base che differenzia le tre forme di SMA? Questo è un gene molto complesso perché esiste un gene SMN1 che è quello dove esiste la mutazione, la delezione e poi esiste un altro gene quasi gemello che si chiama SMN2 che è un gene in grado di produrre solo una piccola quantità della proteina che serve, che è una proteina funzionale. Questo SMN2 può avere più copie, allora nei bambini con la forma più grave hanno soltanto una o al massimo due copie, man mano che diminuisce la gravità della malattia sono presenti più copie. Ciascuna di queste copie è in grado di dare un pochino, di contribuire con un pochino di proteina che è poca per ciascuna, per cui più aumenta il numero delle copie più aumenta la proteina disponibile e quindi diminuisce la gravità della malattia. Ecco, malattia che si presenta come? Cioè quali sono i sintomi appunto delle tre forme di SMA? Diciamo che nella forma 1 questi sono dei bambini che sono fortemente ipotonici e sono debolissimi. Normalmente noi guardiamo la forza nei bambini se sono in grado di muovere le gambe, le braccia, la testa e così via. Questi bambini sono bambini che sembrano quasi paralizzati e quando si va a valutare il tono c'è pochissima forza o quasi per nulla. È dato che anche i muscoli respiratori sono dei muscoli, sono incapaci di muovere il torace per bene, per cui respirano soprattutto col diaframma, per cui è una malattia in cui colpisce la gravità della debolezza e della debolezza respiratoria, del pattern respiratorio. Quindi è una malattia che esordisce già spesso con questi segni che alcune volte compaiono un po' più tardivamente, magari dopo alcune settimane dopo la nascita, dopo un mese e si si vede proprio questi bambini perdere progressivamente quella poca forza che avevano acquisito prima. Professor Mercuri, quante sono le persone in Italia colpite dalle varie forme di SMA, dai bambini appunto agli adulti, tutti compresi diciamo? È un numero difficile da stabilire perché purtroppo i bambini con SMA 1, prima del trattamento, la forma di SMA 1 è la forma più frequente, però proprio perché i bambini non sopravvivono i numeri sono relativamente minori rispetto alle altre forme che invece hanno una lunga sopravvivenza. In questo momento si è calcolato che approssimativamente abbiamo almeno 800-900 persone che quantomeno sono consapevoli di avere l'atrofia muscolare spinale, sono inseriti in dei progetti regionali di assistenza. I numeri sono questi destinati a crescere se aumenta la sopravvivenza della forma 1, chiaramente. Senta, professore, la diagnosi è unicamente di tipo clinico oppure vi avvalete anche di conferme strumentali e quali? La vera diagnosi è genetica, anche se questa è una di quelle malattie in cui il quadro clinico è talmente caratteristico che non facciamo tanti esami di laboratorio nel mezzo, normalmente il sospetto è clinico, si manda subito il test genetico e questo è, a differenza di altre malattie neuromuscolarie che sono abbastanza complesse dal punto di vista genetico, in questo caso invece la maggior parte, quasi il 90% delle mutazioni sono sempre nella stessa parte del gene, per cui è abbastanza facile avere una conferma genetica, molto meglio diciamo che in tante altre malattie, per questo è importante nel caso ci sia un sospetto della malattia, mandare subito i risultati per la diagnosi genetica, perché è un test di cui si possono avere risultati anche in pochi giorni. Perché è importante una diagnosi precoce? Perché è importante appunto la diagnosi neonatale, come avete sottolineato qui nel corso dell'incontro di oggi? La diagnosi precoce è importante perché noi partiamo da un numero di motoneuroni di queste cellule che ci interessano che via via si va perdendo, ci sono degli studi neurofisiologici che ci dimostrano proprio come l'attività del modo neurone vada ad esaurirsi, per cui prima si interviene, adesso che abbiamo una terapia soprattutto, prima si interviene più possibilità abbiamo di salvare i motoneuroni prima che vada in incontro ad un deterioramento e ci sono degli studi che hanno dimostrato che dando dei trattamenti in bambini tra i due ai sei mesi quelli che erano stati trattati precocemente rispondevano molto meglio di quelli trattati più tardivamente. C'è sempre una risposta ma la grandezza della risposta è diversa, per cui questo è un invito anche ai pediatri, ai neonatologi, a chiunque veda bambini che hanno dell'ipotonia o delle debolezze. Il test è un test anche economico ed è un test nel dubbio che ci possa essere una debolezza, questo è un test che va fatto perché c'è anche una differenza di poche settimane di diagnosi può fare una grossa differenza nella risposta al trattamento, per cui in questi mesi c'è stata, da quando c'è un trattamento c'è stata una particolare attenzione non solo ad avere uno screening neonatare ma anche ad informare i pediatri e i neonatologi sui segni di questa malattia, questa è una malattia rara quindi non è così conosciuta come altre malattie in cui i neonatologi sono bravissimi, quindi aumentare la consapevolezza di questa malattia e la necessità di eseguire i test il prima possibile.